Torino-Fiorentina si gioca, allora è ufficiale, a meno questo, su questo siamo sicuri, non si discute, non si sa quando, se è domani, se è lunedì, secondo la stampa si dovrebbe giocare lunedì alle 5, però questo complicherebbe la situazione calendario perché poi la Fiorentina dovrebbe giocare mercoledì, ma poi la partita di Coppa Italia verrebbe posticipata giovedì e questo rappresenterebbe un problema per Napoli, un casino incredibile ragazzi. Però, però, intanto l'importante è che si ritorni a vedere la nostra amata Fiorentina e questo è un soldevo, guarda, era troppo, stava passando troppo tempo. Comunque, detto questo, preferisco esordire in questo video togliendomi subito un argomento come ha fatto Pradeo oggi in conferenza stampa per presentare Piontech, smettendo Isco. Ecco, smettendo l'arrivo di Isco, questa suggestione di mercato, voglio esprimere un'opinione su questo colpo e fare un po' la ramanzina, tra virgolette, a chi l'avrebbe ritenuto un colpo eccellente. Allora, prima cosa, vorrei ricordare a tutti che da otto giorni è il 2022, non è più il 2016-2017, ok? Quindi, cerchiamo anche un po' di rimanere a passo coi tempi. Ci sono delle occasioni sul mercato, ci potrebbero essere delle occasioni sul mercato più interessanti e cerchiamo di tenere d'occhio quelle. E qui mi ricollego al mia colpa che avevo fatto nello scorso video per quanto riguarda la società della Fiorentina, che, nonostante un mercato deludente a del poco negli ultimi 3-4 anni, recentemente si sta riprendendo perché stiamo facendo colpi funzionali, colpi che possono avere una futuribilità, colpi che possono essere rinvestiti a delle cifre economiche e intelligenti, con delle operazioni ad hoc. Vedi Piontech, vedi Cone, vedi Nico Gonzales e il più grande acquisto di quest'estate, che è stato senza ombra di dubbio, Vincenzo Italiano. Quindi questo è il cappelletto introduttivo che volevo fare. Inoltre, ragazzi, siamo coperti in tutti i ruoli in squadra. Poi ovviamente magari si può migliorare sulla riserva del terzino destro, si può migliorare sul terzino sinistro, si può migliorare su tante altre cose. Però a centrocampo tra Amrabat, Pulgar, Bianco, Torreira, Castrovilli, Malè, Buonaventura, insomma, sette giocatori benassi, me ne scorderò altri, ma comunque c'è, anche se due vanno via, ma c'è il core, c'è la spina dorsale, c'è. Io non credo che inserire un altro giocatore faccia bene alle alchimie della squadra, soprattutto in questo caso, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi, la posizione. Insomma, ci sono tante tante piccole cose che possono magari non far bene alla squadra, a livello anche di serenità, no? Quindi, lasciamo Isco dov'è, cerchiamo di fare colpi più intelligenti, cerchiamo di approfittare di altre occasioni magari. Intanto noi continuiamo così, stiamo facendo bene, come si dice in inglese, se non è rotto, non ripararlo, continua così com'è. Bene, quindi, detto questo, adesso però concentriamoci su quello che sarà la partita di domenica o di lunedì, insomma, Torino-Fiorentina. Allora, senza ombra di dubbio ci saranno degli assenti per il Toro, e per Juric non sarà facile recuperarne alcuni, perché alcuni magari positivi al Covid, altri magari hanno avuto infortuni, è andato via tra l'altro Rincon adesso, quindi, insomma, ha una rosa un pochino decimata Juric. Però, però, alcuni senatori li saranno presenti. Tra questi uno l'ho voluto mettere in copertina, perché è un calciatore, comunque, che a livello di mercato è estremamente desiderato da molte squadre, anche da top club, e che, con una eventuale partenza di Milenkovic, non mi farebbe dispiacere avere in squadra, sinceramente, che è Bremer, difensore molto roccioso, e che sicuramente sarà uno di due giocatori tosti che Vlaovic dovrà affrontare in questa giornata. Quindi bisognerà essere, come al solito, molto abili sulle fasce, con la penetrazione e anche delle mezzali, per favorire la smarcatura di Vlaovic, naturalmente, che dovrà essere anche compito suo. Ma intanto togliergli già uno in più sarebbe oro che cola, dato che il Toro, solitamente, come in tutte le squadre di Juric, giocano una difesa a tre. Ecco, e occhio al modulo di Juric, al modo in cui gioano le squadre di Juric, che è il 3-4-2-1. Abbiamo visto che contro, ad esempio, l'Ellas, squadra di Juric-Chan a memoria, forgiata da lui, abbiamo avuto molta difficoltà, soprattutto a livello di intensità e di pressing, perché, solitamente, quelle squadre li tendono a chiudere in un, praticamente, in un recinto, e a, insomma, a rendere difficile la manovra del regista. Il nostro è Torreira, il nostro regista basso, mobile, è Torreira, quindi dovremmo essere bravi a impedire questa cosa qui, a non, diciamo, farci intrappolare il nostro cervello della squadra, che è Torreira. Poi possiamo smistare abilmente sulle fasce, possiamo cercare le incursioni con le mezzali, possiamo trovare molte altre soluzioni, però vorrei vedere un tipo di prestazione diversa da quella di Verona, anche perché, iniziando l'anno nuovo in questo modo, comunque approfittiamo di uno scivolone della Roma e possiamo così portarci, magari, anche a un quinto posto. So che, per parlare di Lassifia, è molto presto, ma comunque ti toglieresti di mezzo una squadra che hai avuto la fortuna di affrontare presto all'andata, come il Torino, perché era ancora in fase di rodaggio, era ancora in fase di assestamento con questo nuovo allenatore, c'erano ancora delle problemiche per quanto riguarda il mercato. Adesso affrontiamo una squadra più o meno rodata, più o meno una squadra che ha una spina dorsale già pronta. Quindi, attenzione, attenzione a questa partita che io reputo molto, molto difficile di quelle che ci aspettano. Sarà forse una delle più ostiche, quindi vedere una prestazione bella contro questa squadra significherebbe veramente molto a livello anche di maturità e di consapevolezza. Dubito, per quanto riguarda noi, e qua arrivo a parlare della Fiorentina, che esordirà Iconé. Abbiamo visto che nella pantomima di Fiorentina Udinese era già stato schierato Kayekon come alla destra e credo che verrà riproposto anche stavolta. Quindi il tridente Nico Gonzalez a sinistra, dove lui decide di preferire giocare, ma l'italiano lo vuole vedere a destra. Insomma, anche qui cercheremo di capire dove rende meglio il calciatore. Io sono dalla parte d'italiano. Vlaovic e Kayekon a destra. Quindi favoriremo una situazione da cross in questo caso, perché mettiamo a sinistra il mancino e mettiamo a destra il destra. Poi dovrebbero giocare a centrocampo i soliti Duncan, Torreira e Bonaventura. In difesa a terzi, scusatemi, Biraghi, che non è più squalificato, Milenkovic quarta e Odriozola in porta. Ecco, finalmente è tornato anche Drongoski. Vedremo adesso cosa preferire l'italiano, data la disponibilità del polacco. Comunque, per quanto riguarda noi, io l'ho detto, non vedremo probabilmente, presumibilmente, né Piontek e né Icone. Magari a gara in corso, vediamo se si dovesse mettere male la partita. Comunque lì terrei, attenzione loro per la gara di Napoli, dove Piontek ha un feeling speciale con la Coppa Italia, per congiunzione astrale, magari potremo anche riuscire a superare quel turno lì. Quindi, ciò detto ragazzi, noi ci vediamo nel post partita di quando sarà, in ogni caso, di Torino-Fiorentina, sperando di commentare una vittoria. Il mio pronostico è quello di, è brutto dirlo, ma spero di, insomma, di sbagliarmi, di vittorio-Torino o pareggio, o pareggio, perché comunque andare là e strappare punti sarebbe veramente, non dico un'impresa, ma comunque ti avvii già a una realtà bella pesante. Insomma, positivamente parlando. Quindi, noi ci rivedremo dopo e mi raccomando ragazzi, la solita cosa, sempre, sempre. Forza Viola. Ciao.